Compatenti Perra Il mare dell'aria Camilleri della riflessione delle legioni Uomini da un dettaglio E l'impero del regno da Maria Accontate Andiamo in campo Contro Le democrazie frutocratiche e reazionarie dell'Occidente E in ogni tempo Hanno obstaclato la marcha E questo infidiazzo Esistendo la medesima del popolo italiano Italia proletaria e fascista E per la diversa volta Ieri Forte Ieri E con pazza Come il paio La parola La parola La parola E un'azbola Categorica E impegativa per tutti Ieri Capra E un'azbola E da gente e in fuori Le anzi Doveze Il amico Didские Quincele 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 Grazie per la visione!